Salve a tutti e benvenuti in questa specie di video, perché non è una gameplay, non è un unboxing, non è una recensione, non è niente. È solo per annunciarvi un piccolo... una piccola... una piccola. Praticamente, come potete vedere sotto ci sono delle immagini di FIFA, ma appunto perché è inerente a quello che vi andrà a dire il nostro ospite speciale, che è già presente in un altro video che però non ho ancora caricato. Prego, le hai la parola, dottore. Allora, buonasera a tutti, o buongiorno dipende quando vedete il video. Sono Umberto, in arte Sex Balotelli, oppure Snee, come volete chiamarlo lui, e sono qui accompagnato di Luigi Pocio per promuovere un nuovissimo progetto. Questo progetto è praticamente una community, tutta nuova e basata principalmente su FUT. Questo è il nostro nuovo progetto. Consiste a riunire tutti gli appassionati di questa modalità, non solo sito, FUT Italia. Oh, e te lo sei pure scritto, figuro. Si sente? È abbastanza. Comunque, non abbiamo segreti. Sì, sì, sono pure le tre di notte. Comunque, per ora ci appoggiamo su un semplice forum, ma questo deve solo considerarsi una base per la realizzazione del vero progetto. E l'emozione. Esatto. E' il secondo video che faccio a contiene un rubro, che prevede, in caso ci fossero un gran numero di persone a seguirci, di comprare un dominio e trasferirci appunto lì. In questa community, come si può dunque vedere nel video, i giocatori potranno parlare in una semplicissima, ma efficacissima, chat, partecipare a vari tornei, a premi, organizzare manchievoli o scaldarsi i giocatori. Per quanto riguarda i tornei, ce n'è uno di cui vi parlerà ora Luigi Bocio. Sì, perfetto. Come potete vedere, ora o da prima, non so, ma comunque c'è un'immagine del mio favoloso desktop. E vi mostro un attimo, un attimo, appunto, il forum che diceva il sottoscritto. L'altra persona che ha fatto... no, niente YouTube. Allora, vediamo un po'. Qual era, eh? Foot Italia. Come potete vedere, si... Si scrive, appunto, foottrattoitalia.forumfree. Vabbè, il link è in descrizione, in ogni caso. E appunto questo è il forum, niente di particolare. Anche perché è una nuova, diciamo, organizzazione di tornei, appunto. E niente, appunto, il torneo in questione è questo qui, che si chiama Foot Italia Fist Tournament. O Tor... Tor... Fist Tournament. Torneo. Torneo. No, vabbè, comunque, a parte gli scherzi, eccolo qui. E qui, come potete vedere, dovrebbe... Cioè, basta che ti registri al forum, cioè, forum free. E... Se non sbaglio, già puoi accedere al costo, senza che ti presenti. Però, se li presentate, è molto meglio. Comunque, andando su Tornei, trovate le iscrizioni. Cioè, posto con le iscrizioni. E come potete vedere, appunto, qui potete leggere. Faccio un po' di zoom. Perfetto, meglio dico sì, si muore. Ok, salve a tutti da... Vabbè, quello... Guardate qui chi l'ha scritto, proprio... Signor Sex Ballotelli. Vabbè, niente. La cosa importante è che si vincono 17.000 crediti il primo classificato. 5.000 il secondo, quindi... Una sommina, diciamo, qualcosina per... Giusto per dire ho partecipato ma non ho vinto. E il terzo posto, invece, si porterà a casa un quarto della... La somma che ha dovuto pagare per il torneo è un quarto in più. Praticamente, infatti, come potete vedere... 20 e mezzo. Eh? Niente, ma non ho capito. Come potete vedere, ci sarà una quota di iscrizione che sono di 1.500 crediti. E non... Cioè, praticamente non sono niente, basta fare tre partite e hai fatto i 1.500 crediti. Vorrei aggiungere un attimo una cosa. Dica. Praticamente la quota è così bassa, anche perché siamo nuovi e ci vogliamo far conoscere come persone molto oneste, insomma, perché non è che ci andiamo a guadagnare. Ecco, appunto... Quello che pagate noi lo mettiamo nel premio. Esatto, infatti... Prima parlavamo di altri tornei, ad esempio, dove la quota di iscrizione era tot, però raggiungendo, ad esempio, per 10... Per Del Pier. Tot e Del Pier, giustamente. No, comunque, a parte di scherzi, tutti i crediti quindi verranno dati ai vincitori, quindi noi non ci guadagniamo niente, anzi è qualcosa per il forum e per... Per il vincitore. Esatto. Alla fine, anche per il secondo posto, perché alla fine 3.500 crediti non sono male e... Comunque, per ogni venenza e contatti e... Se ci volete prendere a parole, potete aggiungere uno di questi quattro contatti, possibilmente me, se parlate, cioè, se avete visto il video, aggiungetemi e poi asciungetemi, oppure appunto questo qui, questo strano tipo di nome morfi, qualcosa. La quota di iscrizione dovrà essere data quando verranno raggiunti i 16 partecipanti, quindi per ora, i crediti, avete tempo per farli. E un'altra cosa, c'è sta anche il regolamento appunto. Un attimo, c'è sta sotto a tutto. Come potete vedere qui c'è il link al regolamento, se sentite un piccolo... E' il coniglio che si sta mangiando la gabbia. Un regolamento, dovremmo riscriverlo. Vabbè, comunque qui è molto più grande, non ve lo leggo tutto, perché finireste di ammalarvi di tornei malattiosi. Sì, sì, esiste. Sì, ma voi dovete leggervelo. Ovvio, cioè, sono io che già me lo so letto e mi scoccio di leggerlo. Comunque, praticamente, niente di particolare, alla fine non abbiamo vietato nessuna squadra, però ci sono... Abbiamo messo il limite di if. Abbiamo messo il limite di if, però abbiamo anche sempre dato informazioni tipo sulle disconnessioni, infatti quelli, interruzioni degli incontri e cose del genere. Penso che abbiamo detto tutto. Sì, siamo anche alla ricerca di staff serio, per chi volesse aiutarci. Se qualcuno è interessato, ed è anche abbastanza pratico, perché c'è gente proprio che sui forum ci vive, e quindi se non avete niente da fare potete da venirci a dare una mano. Cioè, vi accettiamo a braccia aperte. E a culi chiusi. Esatto. Penso che possiamo dire che abbiamo detto tutto. Allora, in descrizione... Troverete il link. Troverete sia il link del regolamento, che il link delle descrizioni, che il link del forum. Non potete mettere direttamente uno del forum, no? No, perché diamo una mano ai nostri utenti a iscriversi. Un piede puzzolento la vogliono. No, grazie. Davvero un piccati con gli utenti. Ehi, sia chiaro, questo non è niente... cioè, non ha niente a che fare con il canale, però è... Ti vedete... Non è né un video giveaway, come si dice, un coso per iscritti che... Molto probabilmente faremo, però non ora. E n'è niente, quindi... Detto questo, abbiamo speso quanti minuti della nostra vita, non lo so... Per dire qualcosa. E vabbè. Comunque, se volete partecipare, andate qui, perché alla fine ci divertiamo, stiamo in compagnia, è qualcosa di diverso. E anche una certa interazione tra gli utenti, appunto. E basta. Se aggiungete me, aggiungete... Pumberio... Stessa cosa. Svizzarei imorfizzato, pek su Skype. Sex Balotelli, imorfizzato, pek Pumberio... Umberto. Quattro nomi... No, Snake. Ah, Snake, cinque. Cinque nomi, una leggenda. E basta, perché sennò facciamo il video, è lungo, è utile, praticamente. Vabbè, detto questo, io vi saluto. Alla prossima. Eh? Alla prossima. Alla prossima. Niente, vi saluto e vi do... Cioè, vi invito di nuovo, cioè, sempre le stesse cose, io... Vi invito ad andare sul forum, iscrivervi a salutare i presentanti. Alla fine non ci vengono. Eh, vabbè, noi ci abbiamo provato, che ti devo dire. E vabbè, niente, a parte gli scherzi, saluto prima tu, vai. Aspetta, io sono andato uno a uno, mi sono andato a salutare. Ti stai scrivendo pure... Cosa? I saluti. No, no, sono andato a salutarli uno a uno, tu hai detto, vai. Eh, saluta generalmente in questa conversazione. Va bene, allora ragazzi, alla prossima, se ci saranno altri video, io, non lo so. Eh, niente. Grazie per la visualizzazione, buona notte a tutti, buongiorno, quella che è... Ricordiamo che solo noi facciamo il video alle tre di notte. No, non sono ancora alle tre, comunque. Vabbè, detto questo, ha salutato lui, anche se non ha finito di salutare, non fa niente, lasciamo stare, non so salutare. E... Che tempo ti... Ciao. Ciao. Wow. Vabbè, a parte di scherzi, basta che si sta andando proprio mille, mille minuti. Quindi, arrivederci a tutti. Vabbè, salutiamoci alla nostra. Qui dalla Gameplay Sports, qui da Luigi Porcio, qui da Pumberio, qui da Snake, qui da Sexo, qui da... Basta. Qui da Basta. Taglia, taglia. Taglia. Nota che taglia. Vabbè, qui dalla Gameplay Sports è tutto. Se volete suicidarvi dopo aver visto questo video, fatelo pure, non ci sono problemi. Detto questo, alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti.